Buongiorno, mi chiamo Viviana, ho 22 anni, fino a marzo studiavo all'Università di Torino e mi sono laureata appunto a marzo intriennale in scienze internazionali dello sviluppo e della cooperazione. Durante il mio percorso universitario non avevo ancora bene in mente che cosa ne sarebbe stato del futuro rispetto alla mia laurea. Quando sono venuta a conoscenza dell'opportunità di fare questo master ho pensato che potesse essere un modo efficace per scoprire anche altri ambienti che in università invece non erano stati così approfonditi, soprattutto a livello di marketing e di economia. I corsi erano molto teorici e non improntati su quella che è la realtà aziendale. Conoscere, avere delle basi e delle conoscenze in quest'ambito mi è sempre interessato e lo reputo molto importante appunto per un futuro lavorativo. Per questo motivo ho deciso appunto di intraprendere il percorso del master mi è servito tantissimo. Io partivo proprio da una conoscenza puramente teorica di alcune base economiche, io non ero proprio a conoscenza di tanti aspetti che invece fanno parte della vita aziendale in generale. Per questo motivo anche l'aspetto di fare tanti moduli all'interno dello stesso master è stato molto utile per appunto vedere differenti settori propri però appunto di uno stesso contesto aziendale e quindi tutti noi, tutti i partecipanti al master siamo riusciti più o meno ad indirizzarci su una o comunque più aspetti che potrebbero essere più appropriati alla nostra persona anche grazie alle indicazioni proprio di alcuni docenti. Sono stati molto coinvolgenti e molto preparati per tutti i workshop che abbiamo affrontato e ai quali abbiamo partecipato attivamente. Erano tutti docenti derivanti dal mondo del lavoro per cui al di là della parte nozionistica sono sempre stati in grado di portarci esempi propri del mondo del lavoro ai quali l'università non ti prepara. Poter scambiare opinioni, fare domande, penso che sia stato davvero un valore aggiuntivo a tutta questa esperienza. Parlando nello specifico di alcuni professori per me sono stati assolutamente fondamentali la ragaletto. È riuscita a portare un entusiasmo verso un settore che spesso invece è molto lasciato da parte come quello della negoziazione. Se il fatto di avere una figura donna che ha viaggiato molto spesso da sola è riuscita a creare soprattutto in me e nelle mie colleghe un senso di poter far parte di quel mondo che invece è sempre stato molto recluso a quello che è invece la figura maschile. Per quel che riguarda la contabilità io mi sento di ringraziare Maurizio Bianco. Il primo approccio è stato attraverso un gioco che lui stesso ha creato e attraverso il quale ci ha dato le basi che poi sono state sviluppate nel corso dei suoi workshop successivi. Vordiga è anche una persona super umana e super preparata allo stesso tempo. Ci ha fatto particolarmente i workshop riguardo ai finanziamenti e riguardo al business plan. Le sue lezioni sono state proprio uno schema da seguire per riuscire a eseguire quel lavoro. Alla fine ho trovato questo stage all'interno di una startup di Torino. Mi hanno offerto una posizione che è innovativa. Sono molto contenta, molto soddisfatta. Mi sento di assolutamente di consigliare questo master se si hanno poi le prospettive di iniziare a lavorare. Proprio il fatto di essere ogni giorno a confronto con docenti che fino a 12 ore prima stavano lavorando e che usciranno da qua e continueranno a lavorare nell'ambito aziendale. Dà una marcia in più e dà delle conoscenze in più che al di fuori di contesti come questo master sono difficili da reperire. Tra le conoscenze e tra la possibilità di eseguire poi un tirocinio il mondo del lavoro è a due passi.